Nel punto di tutto mercato web di oggi ci occupiamo dei giocatori più decisivi del nostro campionato, dei giocatori in grado di spaccare le partite. Uno di questi è certamente Mohamed Salah della Fiorentina, reduce da una doppietta straordinaria nella partita che i Viola ieri sera hanno vinto in Coppa Italia contro la Juventus. Reduce da Torino, ce ne parla Andrea Giannattasio di FirenzeViola.it Sì, sicuramente sì. Mohamed Salah è il giocatore che più di tutti in questa seconda parte di campionato sta convincendo. Per lui parlano i numeri, sei gol in sette apparizioni. Ieri una doppietta strepitosa che ha consentito alla Fiorentina di espugnare lo Juventus Stadium. C'erano riuscite soltanto altre tre squadre. Prima De Viola, ieri Daniele Pradena in post partita di Torino ha ribadito con grande fermezza che la Fiorentina ha comunque la certezza di poter vantare le prestazioni del giocatore per almeno i prossimi 18 mesi. Lo ricordiamo, il giocatore potrà essere preso in prestito per un altro anno dal Chelsea per un milione di euro. Dopodiché c'è una clausola recessoria che si aggira attorno ai 16-18 milioni con cui la Fiorentina libererà il giocatore e acquisterà l'egiziano dal Chelsea. Sicuramente una perla in una formazione, quella di Vincenzo Montella che sta facendo veramente un grandissimo campionato, una grandissima stagione e che a questo punto si appresta a vivere un momento cruciale dell'anno con un campione ritrovato come Mohamed Salah. Nella Lazio c'è un giocatore che sta sorprendendo tutti per continuità e per colpi straordinari ed è il brasiliano Felipe Anderson che si è imposto quest'anno all'attenzione generale dopo che nella stagione scorsa sembrava quasi un oggetto misterioso. Luca Pargellini. Sì, è vero. Il primo anno in Italia per il brasiliano ex Santos è stato complicato. Sono stati tanti i fattori probabilmente che hanno influito su questo rendimento così altalenante nella prima stagione. Ricordiamocelo, un classe 93, quindi 22 anni ancora da compiere e il salto dal Brasile all'Italia può essere molto complicato per un ragazzo così giovane. Con Stefano Pioli qualcosa è cambiato, qualcosa è scattato nella testa di questo ragazzo che appunto ai tempi della militanza nel Santos era il compagno di reparto di Neymar, un giocatore di cui si era sempre parlato molto bene. Pioli gli ha dato certezze, gli ha dato tranquillità, gli ha dato la possibilità di dimostrare le sue qualità con una squadra votata all'attacco, cosa che probabilmente non era la scorsa stagione, una squadra che fa della fase offensiva il proprio fiore all'occhiello e dando anche la possibilità al ragazzo di imparare da due giocatori di sicuramente maggiore esperienza come Antonio Candreva e Stefano Mauri. Poi ovviamente ci ha messo anche del suo, nel senso che il giocatore probabilmente è maturato, ha capito quali sono le richieste tecnico-tattiche che si pretende a un calciatore di Serie A ed è esploso, è esploso in maniera importante. Per un ragazzo di 22 anni, 22 presenze e 7 gol sono un buon rullino di marcia considerando che c'è stato anche un infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo proprio nel momento di massima esplosione di cui si iniziava veramente a parlare con continuità del suo rendimento. Adesso vedremo nel finale di stagione, potrebbe essere lui uno dei protagonisti della cavalcata per il ritorno in Europa della Lazio, staremo a vedere se Pioli deciderà di continuare con il 4-3-3 oppure proprio in virtù della presenza di Candreva Mauri e Felipe Anderson se non optare per un cambio di modulo e un tridente di tre quartisti alle spalle di Miro Close. Un'altra delle rivelazioni del nostro campionato è senz'altro Diego Perotti del Genoa che spesso ha fatto le fortune in questo campionato per la squadra di Gasperini e anche in Spagna si erano intraviste chiaramente le sue qualità. Se non fosse stato penalizzato dagli infortuni probabilmente sarebbe già in una grande squadra. Simone Lorini. Sì, Diego Perotti sicuramente è una delle armi segrete di questo Genoa scoppiettante di quest'anno di Gasperini. Lui è un calciatore che segna in meno rispetto a Felipe Anderson e Salah però è molto importante nell'equilibrio del gioco e della manovra del Genoa di quest'anno. Un calciatore sinistro, bravo però anche nel destro e soprattutto nell'assist con oltre 100 presenze con la maglia di Sivini in Spagna. Poi è stato penalizzato come dicevi tu da questi infortuni e è tornato in Argentina. Non è andata bene neanche lì. Sembrava che il Genoa potesse essere l'ultima opportunità ed è riesploso. Adesso si parla di lui molto anche in ottica di mercato. La Roma, la Juve sembrano le squadre più interessate. Sicuramente il Genoa però cercherà di tenerselo stretto il più possibile.